vogliamo proteggere i figli da qualsiasi pericolo e così creiamo per loro una finta vita senza dolore il risultato è che al primo che incontrano rischiano di crollare invece dobbiamo insegnare loro che la vita è fatta di difficoltà che puoi subire abbandoni sconfitte che il dolore esiste ed è un grande maestro e soprattutto guardiamoci dagli inculcare nella mente dei giovani dei valori finti come la bellezza conta ciò che ti caratterizza e ti rende unico nel corpo e nella mente non una bellezza omologata quella è un grande nemico perché trasforma la tua vita in una recita e conta la naturalezza anche dell'invecchiare i più grandi doni la vita li fa quando invecchi più vai avanti negli anni più impari cose che prima non potevi sapere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti